Ciao a tutti, oggi facciamo questo paesaggio. Allora, è un paesaggio prettamente primaverile, la foto l'ho scattata a chilometro zero nel campo dietro a casa mia, e è una foto che mi è sempre molto piaciuta, tant'è che l'avevo già rifatta. L'originale però l'ho regalato, quindi ho pensato bene di rifarlo da capo. Allora, questo video originalmente era piuttosto lungo, 45 minuti, quindi ho dovuto tagliarlo qua e là, scuserete la mia barbarie in certi momenti, però ho dovuto farlo appunto perché era 45 minuti. La versione integrale la trovate peraltro sul mio canale Patreon, quindi se volete andare a vedere è lì, con tutte le spiegazioni. Allora, ho preparato un blu cobalto, è un blu cobalto imitazione della Kottman, quindi non è quello originale, però la tinta si avvicina moltissimo, quindi lo dispongo nella parte centrale del cielo, appunto dopo aver bagnato tutta l'area. L'ho bagnata bene, quindi una passata spesso non basta, bisogna sempre tornarci sopra, per lo più, specialmente adesso che il tempo è un più secco, perché altrimenti il foglio comincia a asciugarsi e quando andiamo a metterci sopra i colori rischiamo che appunto si creino degli effetti indesiderati. Poi, sempre con questo blu cobalto ho creato una miscela col rosso chiaro e ho cominciato a farci la parte in ombra delle nuvole, quindi ne ho creata una più chiara e una più scura. Chiaramente per quella più scura ho utilizzato il colore quasi a corpo. Poi, col pennello ben scaricato qua e là asporto un po' di colore, laddove ritengo che sia necessario per ricreare il bianco della parte superiore delle nuvole. E sempre con il pennello ben scaricato e pulito, cerco di spostare qua e là il colore grigio, in modo da sfumarlo. Poi, sempre col blu cobalto appunto ho intensificato il colore centrale del cielo e ho intensificato un po' anche le parti grigie. Ok, dopo aver asciugato il phon chiaramente, questo processo non si vede perché l'ho un po' accelerato, vado a sistemare la parte inferiore. Allora, come vedete sto girando intorno a una forma allungata che è un palo, quindi questo palo adesso non si vede perché chiaramente quella che sto facendo adesso è solamente la preparazione. Quindi sto mettendo, diciamo, tutta la zona inferiore, per lo più con giallo limone. Naturalmente, man mano a mano che vado avanti col lavoro, i verdi saranno sempre più vari. Quindi, ecco, incomincio a inserire un po' di ocra gialla, un po' di verde vescica e poi cercando chiaramente di variare anche il tipo di pennellata per non fare un lavoro troppo monotono. Poi, incomincio a mettere le forme degli olivi. Allora, per fare il colore dell'olivo, una miscela che mi piace molto è l'ocra gialla e il blu ceruleo. Chiaramente nel caso dell'olivo, dove prevale un po', diciamo, il colore freddo, prevale un po' il blu ceruleo. Quindi, in questo caso, ci sono tornata sopra, appunto, per fare un colore un po' più scuro. Quindi, anche questo è un olivo. Vedete, gli olivi hanno sempre delle forme molto irregolari, eh, per lo più. Hanno queste branche... branche, non branche, scusate, non sono dei pesci. Hanno delle branche molto sviluppate, però molto irregolari, quindi spesso capita che si dividono in due, in tre, insomma. Hanno delle forme molto belle, tra l'altro. E dei rami molto contorti. Rami, tronchi. Allora, sono degli alberi abbastanza trasparenti, perché chiaramente il fogliame non è che faccia tutta questa ombra, tutta questa massa, però, insomma, in primavera sono piuttosto fronzuti. Quindi, i rami si vedranno fino a un certo punto. Intanto ora lo vediamo meglio, eh. Quindi, incomincio a mettere un colore un po' più scuro per i rami. Per adesso sto utilizzando la punta di questo pennello, che utilizzo per quasi tutto. Ok, poi, ecco, adesso ho preso un pennello un po' più sottile, per fare i rami più piccoli. I rami, come dicevo prima, a un certo punto si vedranno e non si vedranno, perché in parte sono coperti da queste fronde. Questo è normale, un po' in tutti gli alberi. Quindi, i rami dell'olivo, peraltro, sono abbastanza scuri, quindi con la tinta sono andata giù abbastanza pesante. Sono anche piuttosto contorti, è molto divertente disegnare i rami dell'olivo, perché si può andare veramente in tutte le direzioni. Un po', credo, sia natura, un po', penso derivi dalle potature che accumulano nel tempo, che a volte sono veramente toste. Per cui, appunto, questi rami ricrescono nei modi più assurdi, no? Ok, vado a sovrapporre sempre un po' di quel colore che ho detto prima, però un po' più forte, con meno acqua, in modo da, appunto, da coprire un po', in parte, diciamo, il colore che avevo fatto prima, perché era troppo debole. E lo sto facendo col pennello, con la tecnica del pennello asciutto, quindi, appunto, girando il pennello, e sfrutto le asperità della carta. Ora, questa è una Fabriano... Fabriano, sì, 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 quella abbastanza... Cioè, è una via di mezzo fra ruvida e liscia. A grana fine la chiamano, oppure prestata a freddo, dipende. È la stessa cosa. Quindi, è ruvida, ma non troppo. Quindi l'effetto a pennello asciutto viene, però viene solamente se si ha l'accortezza di non bagnare troppo il pennello, o di fare una miscela troppo liquida, altrimenti viene fuori un macchione e non succede proprio niente. Allora, in questo caso sto cercando di risolvere un problema che avevo combinato prima, quindi mi era venuto un cavolfiore su questo cespuglio. Questo non è un rivo, credo che sia un evonimo europeo, mi pare. E quindi ha dei rametti, è fatto in modo diverso. E chiaramente, sovrapponendo tutti questi rametti, il cavolfiore originale non si vede più. Allora, i cavolfiori succedono, eh. Cioè, gli errori si fanno nell'acquarello, ci mancherebbe. La cosa importante è che si possano rimediare, perché in questo caso non mi ci piaceva e l'ho tolto. O meglio, l'ho coperto, non è che l'ho tolto. Naturalmente, se avessi fatto un colore già subito troppo scuro, chiaramente c'era poco da fare, no? Quindi è sempre bene procedere per gradi. Adesso vado a fare l'ombra di questo palo. Ovviamente la luce arriva a destra, quindi ho preparato un colore scuro, ho bagnato il palo, e sulla parte sinistra, con un pennello molto fine, vado a fare la parte ombreggiata. Siccome il palo è bagnato, tutto, questa parte ombreggiata si spanderà un pochino nella zona bagnata. Ora, chiaramente questo palo è sottile e non si vede più di tanto. Però, se fosse un cilindro un po' più grosso, l'effetto si vedrebbe piuttosto bene. Comunque, tra un po' ci vado a fare qualcosa per farlo vedere un po' meglio. Ora, ho preso un pennello rettangolare, ho aperto le setole, e adesso voglio mettere qualcosa che ricordi fili d'erba. Quindi, con una tinta abbastanza solida, cioè con poca acqua, appunto con le setole allargate, mi ricrea proprio la sensazione dei fili d'erba. Naturalmente non farò solamente questo, perché altrimenti viene fuori un effetto noioso su tutta la parte erbosa. Quindi cercherò di alternare. In questo caso sto facendo un effetto di pennello asciutto, mettendo anche altri colori. Chiaramente questo è un prato in attesa di essere tagliato, no? Quello che poi diventerà fieno. Quindi i colori sono molto vari. Cioè, si va dal giallo chiaro a quasi bianco, al verde scuro, al quasi nero, quindi per le ombre, no? Quindi, ecco, bisogna cercare di ricreare più varietà possibile. Ho preparato un colore per l'ombra, sto mettendo adesso sotto gli alberi. Fatto con blu altremare e cremisi da rizzarina. È la mia miscela preferita per le ombre. E lo metto un po' da tutte le parti laddove vedo che c'è un ombreggiatura da fare. Quindi sotto gli alberi sicuramente. E poi anche nell'erba, perché appunto anche l'erba, essendo alta, crea questi effetti di ombreggiatura. Ecco. Quindi anche per creare un po' di contrasto, da dove non c'era. Ora, con un verde un po' più scuro, vado praticamente a lavorare intorno a questo palo. Perché? Perché adesso non si vede quasi per niente. Quindi devo creare un contrasto affinché spicchi rispetto all'erba sottostante. Quindi, ovviamente, quello che ho fatto a destra lo devo fare anche a sinistra, perché sennò non è verosimile. Quindi, appunto, vado a rifare delle forme erbose con un colore un po' più visibile. Con l'unghia poi gratto via qualche filo d'erba che diventa bianco, perché in pratica asporto il colore. E mi dà dei colpi di luce. Anche lì dove ho fatto le ombre. Ok. Il lavoro è concluso. Allora, se vi è piaciuto, come al solito, mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Se avete voglia di vedere questo tutorial in forma intera, potete andare sul mio canale Patreon e iscrivervi anche lì. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo. Ciao! Grazie per l'attenzione e ci vediamo.